Musica Ben ritrovati, una buona serata a tutti voi cari amici di Angoli Grazie per essere qui in mia compagnia, l'appuntamento irrinunciabile ormai lo sappiamo della sera Vi ricordo subito anche il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione Basta inviare una mail ad angolichiocciolaespansionetv.it Sta per iniziare un nuovo programma, una nuova produzione di Espansione TV Che ci auguriamo possa interessarvi e soprattutto come sempre farvi compagnia in modo intelligente e particolarmente istruttivo Sono qui i protagonisti, questa sera ospiti per raccontarne il dettaglio che cosa accadrà E quindi io saluto e ringrazio Don Giovanni Illia che torna a trovarmi dopo tantissimo tempo Ciao Dolores, grazie dell'invito Come stai innanzitutto? Molto bene Molto bene, mi fa piacere Ricordiamo responsabile accoglienza presso la cattedrale di Como Insieme a te ovviamente c'è anche Paolo Carboni Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te Tu sei responsabile della comunicazione sempre per la cattedrale di Como Quindi parte un nuovo appuntamento Paolo magari lo ricordi tu subito nelle date e nei giorni Parto un nuovo appuntamento che abbiamo chiamato il Vangelo della Domenica È interamente prodotto dalla cattedrale di Como E partiremo con la prima domenica di avvento, il primo di dicembre Fino all'ultima domenica di giugno, quindi il 28 E due saranno gli appuntamenti su espansione E sono sabato alle 12.45, che è dopo il Tg E la domenica mattina alle 8.45 Quindi due momenti assolutamente da assegnare Perché saranno davvero delle occasioni per riflettere E per riflettere ci vuole Don Giovanni Allora, innanzitutto Tentiamo, tentiamo Insomma, come hai preso il coinvolgimento in questa esperienza televisiva? Oltre ad Angoli non ti bastava E quindi è partita anche questa cosa Come l'hai presa? Beh, l'ho presa con il gusto di seguire un po' San Paolo Lui scrive a Timoteo e gli dice Annuncia la parola, insisti in ogni occasione, opportuna e non opportuna Esorta, rimprovera, con ogni magnanimità e pazienza Ed è sempre San Paolo che dice Tutto io faccio per il Vangelo Quindi siccome cerco di salvare l'anima Nonostante le fatiche, le debolezze, la fragilità Cerco di annunciare la parola del Vangelo Ti vedo diventato anche molto social È questa esperienza televisiva che ti induce ad utilizzare degli strumenti di supporto È un piccolo strumento che sto imparando a usare al meglio Certo Ovviamente in questa esperienza Almeno ce lo auguriamo tutti anche noi di Espansione TV La platea di ascolto sarà un po' più folta Un po' più numerosa di quella con la quale magari si è normalmente abituati ad avere a che fare Negli incontri della domenica Questo è un pensiero che ti dà qualche preoccupazione O che invece ti entusiasma particolarmente? No, più che preoccupazione è il gusto e la gioia di annunciare qualcosa di grande Che ci supera Qui chiaramente non è il contesto omiletico di una celebrazione liturgica Questo è evidente Più l'attenzione a far giungere l'essenzialità del messaggio L'attenzione alle cose che contano immediatamente Anche perché nell'omelia noi preti possiamo un po' divagare Nei minuti della televisione giustamente bisogna I tempi televisivi sono stretti A volte sono anche severi E bisogna dire l'essenziale in poco tempo Come ti sei trovato in questa fase sperimentale? Direi con l'aiuto di Paolo Una fase È andata bene Tenace Ma fruttuosa Ecco fruttuosa Quindi commento generale, esperienza positiva? Direi di sì Dobbiamo anche ringraziare la banca di credito cooperativo Brianza e Laghi Che ci dà la possibilità di fare questa trasmissione Che è a servizio insomma Anche dei cittadini E che noi siamo felicissimi ovviamente Di accogliere qui sulle nostre reti Ma Paolo vengo da te Com'è nata questa idea? Ora questa idea è nata un po' per unire la diocesi Unire la diocesi alla sua cattedrale Che è anche la chiesa madre E anche la sede del vesco diocesano La nostra diocesi è conformata in una maniera molto strana Infatti si parte dalla bassa comasca Si attraversa tutto il lago Tutta la valtellina Fino su all'Ivigno La zona della Val Chiavenna La sacca nelle valli varesine E poi parte verso l'ecco Quindi è molto difficile Anche tenerla Darle un'unione quasi anche geografica Di questa diocesi E ritengo che questa trasmissione Sia un segno comunque di comunione Verso gli altri Verso chi? Intanzitutto verso la comunità di tutti i fedeli Più in particolare gli anziani Gli ammalati, le persone sole Chi non ha nessuno che le va a trovare Chi vive dei disagi Perché oggi siamo un po' tutti pensati A portare all'esterofilia Cioè a chi arriva da lontano Che per l'amore di Dio è una cosa giustissima Ci mancherebbe Ci mancherebbe Ma ci dimentichiamo spesso di chi abbiamo vicino La persona che c'è sul nostro pianerotolo Di chi incontriamo e magari ha bisogno di aiuto Di chi ci ha chiesto aiuto e lo ignoriamo Anche se è una persona di noi È un nostro vicino È un nostro compaesano Anche perché il concetto di vicinanza Don Giovanni, torno da te È molto importante Cosa ne pensi? Direi che più che il concetto di vicinanza Per noi è importante il concetto di prossimità Che implica non solo Il riconoscere qualcuno che mi è vicino Ma implica il diventare vicino Il farmi accanto Proprio perché nella logica del cristianesimo Sta dentro quella roba qui Il cristianesimo non è tanto l'accorgersi Che ci sono tanti problemi Gesù ce l'ha detto chiaro I poveri li avrete sempre con voi Ma quello che diventa decisivo È come noi ci facciamo accanto San Paolo direbbe E mi sono fatto tutto a tutti Per guadagnare ad ogni costo qualcuno Detto questo Paolo Come sarà organizzato questo programma? Come è costruito? E che cosa succederà a strada facendo? Visto che hai già annunciato Un periodo di programmazione significativo Fino a giugno Sì, diciamo che il fulco principale È la base del cattedrale di Como E da lì ci muoveremo in San Giacomo San Fedele In seminario Poi saremo ospiti da Don Giovanni A Schiniano e ad Argenio Per qualche puntata anche lì Vedremo San Carpofro Sant'Abbondio Le chiese proprio storiche di Como Per poi tornare ancora in cattedrale Nei momenti anche molto forti Quindi è un po' costruita in questa maniera Per rivivere comunque le chiese storiche E le chiese madri della diocesi Quindi anche un'occasione culturale Per trasmettere delle immagini Che facciano comprendere anche il patrimonio Che è qui a due passi Come dicevi tu Assolutamente sì Perché moltissimi comaschi Non sanno neanche che cosa c'è Magari a Como Che cosa hanno vicino Si prende Si va a fare weekend lontano Invece in realtà ci sono tante cose belle Ma è giusto fare anche quello Però è bello anche conoscere tante realtà Che ci sono anche in città Bene, lo ricordiamo di nuovo quando sarà? Sì, allora a partire da sabato 30 novembre Alle 12.45 E domenica 1 dicembre alle 8.45 Bene, quindi davvero ormai ci siamo Esatto Ma a proposito di questo programma Che parte e prende per mano il periodo dell'Avvento Vogliamo, visto che è un momento importante Dire qualcosa Spendere un paio di riflessioni Anche su questo cammino Di un cammino si tratta Che ci porta dove? Ma chiaramente il tempo liturgico dell'Avvento Ci prepara anche al Natale Ma soprattutto dà La dimensione della spiritualità ordinaria Normale alla vita del cristiano Noi ci prepariamo a ricordare Quello che Gesù è venuto a fare In questo mondo Ma lo facciamo perché guardiamo a una meta Al suo ritorno Al suo farsi vicino Quindi l'Avvento è un po' come Il determinare quella che è la spiritualità Ordinaria della vita cristiana L'uomo che attende, la donna che attende La venuta del Signore Sono cambiati parecchio i tempi Le realtà sociali Le famiglie anche I modi di intraprendere la vita quotidiana Anche la Chiesa in qualche maniera Per coinvolgere maggiormente in questo percorso di attesa Deve in qualche maniera adeguarsi E trasmettere dei messaggi Che siano più coinvolgenti O più attuali Don Giovanni Non voglio usare termini sbagliati Chiedo a te Ma I termini vanno benissimo Io non credo che dobbiamo preoccuparci noi Di aggiornare il Vangelo Il Vangelo va preso com'è Anche perché Chi l'ha scritto L'ha scritto per invitarci A fare memoria Ma non una memoria che rimane ferma nel passato Una memoria che diventa oggi dono di salvezza Una memoria che è dono di salvezza E che apre a un nuovo futuro Quello che bisogna trasformare Non è il Vangelo Semmai dobbiamo noi Lasciarci trasformare dal Vangelo E questo è un cammino mai concluso Bene Siamo davvero quasi ai saluti Quindi inevitabilmente Paolo la domanda è diritto Ringraziamenti Ma anche aspettative di questa nuova trasmissione Ringraziamenti Già il Don Giovanni ha ringraziato Icrea Il gruppo Icrea L'ingegnere Pontigia Che appunto ha creduto in noi Lo stesso ringrazio l'Espansione TV Che si è affidata appunto E speriamo di ripagare bene questa fiducia Ringrazio anche Ignazio Spallina Che è il nostro Camera Il nostro montatore Che mi sopporta tantissimo Perché faccio il regista Faccio il montatore Faccio il trovarobe Faccio di tutto Esatto Quindi ringrazio tantissimo Anche lui Un ringraziamento comunque anche te Che mi hai dato comunque Tantissimo aiuto e sostegno E a proposito di amicizia Ti invito alla nostra trasmissione Va bene Quando riuscirò ad uscire da questo studio Volentieri Possiamo anche chiedere al signor capo della Dori Se la Dori magari può venire qualche volta Va bene Lo faremo Quindi ricordiamo l'appuntamento E poi ci salutiamo Vai Paolo L'appuntamento Allora partiamo con sabato 30 di novembre 12.45 dopo il Tg Domenica 1 dicembre 8.45 Bene E con questo io saluto e ringrazio Don Giovanni Illia e Paolo Carboni Per essere stati qui E per essere davvero un supporto straordinario Per tutti noi Grazie Dolores E quindi ci vediamo prestissimo Buon avvento A presto Bene Rimanete lì perché tra pochissimo Torno con voi Buon avvento